altro caso particolarmente interessante l'abbiamo già visto però insomma ripetiamolo perché è utile è quello relativo alla forma della Vespa una sentenza anche qua di Corte d'Appello però non di Milano stavolta Torino molto più recente quindi 2019 l'anno scorso un anno fa era mi sembra febbraio o primavera del 2019 cosa dice la Corte d'Appello di Torino? innanzitutto chi è che stavano litigando? stavano litigando di fronte al giudice la Piaggio che appunto è la società che ha creato e commercializza ancora oggi la Vespa contro due società cinesi che sono vabbè nomi che non mi avventura a leggere Ziyang Zongyang Industry Group e Taizu Zongyang Import and Export sicuramente visto che tra di voi c'è un madrelingua cinese mi starà prendendo in giro che ha riconosciuto quindi la proteggibilità della forma dello scooter Vespa con il diritto d'autore insomma cosa non da poco chi ha letto la sentenza intera avrà capito tra le varie contestazioni dell'appello le società cinese hanno dedotto che cosa? quindi questi sono i due no di più tre diciamo tre no due vabbè qui c'è un punto in virgo doveva essere un punto in virgo due punti centrali e poi le conclusioni a cui è arrivato il giudice allora le società cinesi avevano dedotto che cosa? per difendersi di fronte all'attacco diciamo all'azione giudiziare da parte di Vespa di Piaggio sostenevano le società cinesi che il diritto d'autore non protegge singole caratteristiche di una forma complessa ma un'opera nell'insieme comprensiva di tutti gli elementi che costituiscono l'originale creazione e l'individuale rappresentazione del suo autore e poi sostenevano le cinesi che le caratteristiche della forma della Vespa ritenute rilevanti in primo grado perché qua siamo di fronte al giudice di secondo grado perché è un appello arrivati per la sussistenza del diritto autorale del diritto d'autore sarebbero caratteristiche comuni in molti altri modelli di concorrenti e comunque caratteristiche della forma funzionali e o standardizzate in relazione al prodotto scuta cioè cosa dice? i cinesi dicono che il primo punto è un po' secondo me è un po' argomentato in modo un po' generico cioè cercano di dire che deve essere il complesso del disegno dell'oggetto a evocare qualcosa di artistico e non solo singoli elementi va beh il secondo punto invece è un po' più centrato dice che sostanzialmente uno scooter non può essere fatto in tanti modi la sto banalizzando molto però gli scooter più o meno hanno delle caratteristiche standard che sono avere un manubrio, due ruote un sedile una sella un posto in cui si appoggiano i piedi e quindi Vespa è vero che è stata una delle prime a seguire quella forma lì però insomma poi tutti gli altri scooter più o meno hanno seguito quel modello perché non c'erano tanti altri modi perché sono caratteristiche vedete funzionali e standardizzate quindi se sono funzionali non c'è creatività non c'è valore artistico cioè ricordiamoci che qua non dobbiamo cercare solo il valore artistico solo il carattere creativo ma dobbiamo cercare anche se c'è valore artistico quindi lì entrano in gioco appunto gli esperti di design di storia dell'arte di scultura e via dicendo che dicono che riescono a spiegare quanto la Vespa sia diventata così iconica così rappresentativa da sembrare addirittura una scultura la corte d'appello quindi cosa ha deciso non ha accolto le doglianze delle società cinesi stabilendo che cosa che la Vespa è senz'altro nata come oggetto di design industriale senza tuttavia nel corso dei decenni scusate è senz'altro nata come oggetto di design industriale tuttavia nel corso dei decenni ha acquisito una tale mole di riconoscimenti dall'ambiente artistico che ne hanno celebrato grandemente le qualità creative e artistiche da diventare un'icona simbolo del costume del design artistico italiano sottolineando così come il carattere creativo ed artistico della Vespa sia confermato dai plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerose e importanti istituzioni culturali che la annoverano tra le espressioni più rilevanti del design e che proprio da strego del riconoscimento collettivo debbano essere valutati il carattere creativo ed artistico di un'opera di design e anche qua il giudice ha argomentato molto bene perché cosa è successo probabilmente se noi andiamo a prendere tutti gli atti della causa la Piaggio per dimostrare la sussistenza di questo valore artistico ha tirato fuori i vari premi i vari riconoscimenti gli articoli i sondaggi che hanno dato poi la Vespa come le ricerche di mercato sondaggi contest in cui la Vespa risultava vincente questi sono gli elementi che hanno portato poi a convincere il giudice perché voi nell'ambito di una causa civile dovete riuscire con le vostre prove a formare il famoso convincimento del giudice cioè dargli degli elementi che lo rendano solido nella sua decisione e quindi se il giudice di Torino corte d'appello quindi un giudice autorevole vuol dire che sopra di lui c'è solamente la Cassazione e non è detto magari i cinesi vanno in Cassazione quindi avremo fra due anni o un anno e mezzo o l'anno prossimo una sentenza di terzo grado cioè di Cassazione che stravolge completamente non credo perché mi sembra la Cassazione interviene se il giudice ha preso qualche cantonata qua mi sembra che hanno abbastanza sia il primo grado che la corte d'appello hanno utilizzato le stesse argomentazioni mi sembra argomentato molto molto bene però ecco questi sono i ragionamenti vedete chi aveva letto gli articoli sulla Vespa questa cosa in teoria le dovrebbe già sapere l'argo 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 l'argo